La città delle donne per me significa mettere in connessione tutte le donne fra loro, tutta la loro energia, la positività e questo perché possa creare una rete che non si deve rompere, non è una rete improvvisata al momento proprio per tutte le donne che questa energia non ce l'hanno e che invece dobbiamo aiutarle a far venire fuori perché le donne sono molto coraggiose e quindi questo coraggio è un coraggio che deve portare tutte quante le donne tutte insieme a modificare gli aspetti strutturali di questa città.